Buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro di apertura del ciclo che abbiamo chiamato Il Segreto di Milano, che oltre a questa serata avrà quattro visite guidate nei prossimi sabati. Il filo che lega un po' questa serata con le visite è la questione dello sguardo su cui abbiamo voluto concentrarci. Milano è una città che si guarda poco, un po' perché i milanesi non hanno il tempo, una città del lavoro, un po' perché non è Venezia, non è Roma, non è Firenze. Uno dei visitatori che nell'Ottocento passava da Milano per il Grand Tour diceva che non c'è niente a Milano che colpisca a prima vista. Forse ha ragione, è una città che ha una bellezza che richiede di essere ricercata. Un altro però di questi visitatori che si chiamava Wild diceva invece che Milano è una seconda Parigi. Quindi c'è come uno scarto tra questi due sguardi. C'è una distanza da colmare e questo è un po' il motivo per cui credo che questo sguardo vada imparato da qualcuno. Questa sera ci accompagneranno attraverso delle immagini, una conversazione. Marco Biraghi, storico dell'architettura e docente al Politecnico e Luca Doninelli che già da alcuni anni anche qui con il Centro Culturale sta conducendo questo lavoro di approfondimento dello sguardo e di racconto. Te Marco. Grazie a Lorenzo e grazie al Centro Culturale Milano e grazie a voi che siete qui. Mi fa piacere parlare di Milano perché è una città di cui secondo me si parla troppo poco tutto sommato anche se naturalmente se ne parla molto in alcuni contesti, poi però poco sotto alcuni profili e condivido perfettamente quanto appena detto Lorenzo che dice una città che si guarda poco appunto, una città che passa, che è una specie di sfondo ma poi raramente la si va davvero a guardare. Io partirei proprio da questo punto, cioè il problema dello sguardo è il problema dunque anche dell'immagine della città, come la città è stata immaginata e naturalmente la si immagina come è, non è che la si può deformare più di tanto, però esiste naturalmente, c'è una tradizione delle rappresentazioni della città e su questo senza voler fare le cose troppo complicate, se volete anche troppo colte, insomma è sera dunque ci distraiamo un pochino, ho fatto una cosa banalissima, semplicissima, il motore di ricerca più diffuso attualmente, Google, che cosa succede scrivendo Milano vedute, la veduta di Milano, questo viene fuori, sono due o tre piante, cioè piante due o tre vedute per l'appunto della città del Settecento, c'è qualche fotografia del centro di Milano con il Duomo, ne compare una anche con quella annessione di Porta Nuova e tutto il suo corollario di altri edifici più o meno stravaganti, c'è qualche Duomo, c'è qualche chiesa, Marcantonio dal Re, quelle immagini bianco e nero sono quella incisione di uno degli incisori che si è dedicato molto a Milano, ma insomma non c'è molto dal punto di vista della raffigurazione appunto della veduta, il vedutismo di Milano, offre poco perché in fondo Milano faticosamente ha come un punto archimedico esterno a se stesso, cioè è una città, lo sapete benissimo, con un impianto radiale, è una città monocentrica, anche se poi nel corso della sua storia naturalmente ha anche sviluppato altri centri, però essenzialmente tutta raccolta intorno al Duomo e la Piazza del Duomo. Dunque è una città che faticosamente appunto si mette in prospettiva, guarda da fuori se stessa, si rappresenta, si rispecchia, si bea di se stessa, si ama, si potrebbe dire in molti modi. Per esempio che cosa succede facendo la stessa operazione su una città che sicuramente è il contrario di questo, che è Napoli. Napoli, ovviamente la sua condizione geografica è del tutto diversa, però Napoli dalle rappresentazioni del Settecento ancora una volta, fino alle fotografie contemporanee, ovviamente parlano del Pino e del Vesuvio, parlano del Golfo, parlano in tutta una serie di monumenti, però già a colpo d'occhio c'è una coerenza del tutto diversa, c'è una omogeneità quasi nell'immagine, nell'immaginario dunque, che sa bene che cosa guardare verso dove guardare. Poi ho fatto un'altra prova, ho detto forse vedute non è proprio la cosa giusta e allora Google suggeriva vedute panoramiche. Vedute panoramiche è ancora più parerossale, Milano vedute panoramiche mostra alcune cose che non c'entra nulla, addirittura c'è Napoli, per cui curiosamente salta fuori Napoli come ricorrenza su Milano. Poi pertanto su Milano c'è una immagine in cui c'è la Torre Velasca e ci sono gli sposi in un luogo forse sui laghi, chi lo sa, e poco altro, mentre invece si fa la stessa operazione su Napoli, si rinforza ulteriormente lo stesso concetto per cui in realtà si mostra e si vede una cosa molto napoletana. Non vale niente naturalmente questa prova, però forse dice il fatto che appunto l'identità milanese, quella in, come dire, non facilmente decifrabile elemento, sostanza che tiene insieme cose che naturalmente sono di per sé diverse, e non potrebbero essere diversamente, le architetture e i luoghi della città sono tutti diversi, non deve esserci un'omogeneità e tuttavia in qualche modo possiamo dire, possiamo riconoscerle dentro come un DNA, un tratto comune. Milano faticosamente ha questo carattere di cui appunto ho appena detto. E tuttavia forse questo carattere bisogna cercarlo con più attenzione, cioè laddove non si mostra con piena evidenza forse però bisogna fare un'operazione di scavo un pochino più raffinato. Allora io ho provato a fare un po' un percorso breve di alcuni casi, di alcuni esempi di architetture milanesi, stante il fatto che appunto se non esiste una milanesità diciamo della città che sia sparsa a macchia d'olio e che vada ad avvolgere tutto, c'è sicuramente una concentrazione in alcuni luoghi, in alcuni edifici, di cui sicuramente invece riconosciamo il carattere milanese. E qual è questo carattere? Per esempio siamo negli anni venti, all'inizio degli anni venti, nel novecento, è finita la guerra, inizia una fase di ricostruzione che non è tanto quella post bellica dal punto di vista dei danni come nella seconda guerra mondiale, però è una ricostruzione che deve naturalmente far ripartire una macchina produttiva e all'angolo fra via Moscova e via Torati viene realizzato questo intervento affidato a Giovanni Muzzi. È un intervento di carattere speculativo, è importante questo aspetto, in qualche modo fa parte questo sì di un DNA di Milano, la speculazione, il terreno ha un suo valore e Muzzi viene chiamato, Muzzi è architetto novecentista, come si dice, viene chiamato per in realtà coprire un po' questo carattere speculativo e lo farà in un modo interessante perché sparge su queste facciate una serie elementi, diciamo, di natura, di origine classica, gli archi, le nicchie, una serie di elementi, veramente sopra le finestre si vedono, una serie di elementi ridotti come bidimensionalmente, come se fossero quasi semplicemente dei disegni, su questa impaginato di facciata che, come vedete, cambia come ordine a ogni piano, quelle linee marcapiane, come se ogni volta si ricominciasse un discorso e non c'è più dunque una composizione unitaria, elemento che non sfugge ai milanesi allora, che immediatamente bollano questa casa con il nome che gli rimane appiccicato addosso, Cabrut, e qui il carattere milanese, anche questa forza se volete, la casa brutta diventa non soltanto il suo nome ma in fondo diventa una bella casa, cioè la bruttezza della casa, questa disarmonia, questa sommatoria di elementi che sta troppo insieme però diventa subito, come viene annessa al carattere della casa e in fondo diventa un emblema della Milano di quegli anni. Qui vediamo i disegni, l'operazione speculativa consisteva anche nel fatto che questo grosso, era un grosso intervento dimensionalmente e piuttosto alte le facciate rispetto allo standard e alle quote a cui si attestavano gli altri edifici, per cui si ritiene opportuno tagliare questo grosso, diciamo, unico edificio in due parti facendo passare una strada in mezzo che diventerà una strada pubblica, in qualche modo un passaggio che viene ceduto alla città e dunque sono, come vedete, in pianta due corpi che si distinguono ma in realtà si vanno a riconnettere tra i loro attraverso una sorta di arco, una specie di arco trionfale che opera questa connessione. Anche i colori, per qualche ne rimane naturalmente dietro la stratificazione dello sporco appunto, che in fondo caratterizza molti edifici milanesi, c'è in fondo questa non tanto bella armonia, c'è come una specie di programmatica, carattere poco estetico, ecco questo carattere scarsamente attento a un'estetica che tuttavia appunto diventa un elemento di per sé caratterizzante. Qui vedete tutti questi elementi anche un po' così con leggerezza appiccicati alla facciata che devono come mascherare il fatto che si tratta di un'accumulazione di troppi piani per quell'operazione speculativa. Poi se si fanno pochi passi e si gira alle spalle del complesso della chiesa e lì c'è l'Angelicum naturalmente e il convento di Sant'Angelo, troviamo questo strano e per me ai miei occhi è sempre stato molto interessante come se fosse una specie di retablo, una pala d'altare in cui così si erge questo elemento dell'arco, molto romano per alcuni aspetti più che milanese, che però in qualche modo dà anche un'ulteriore tonalità, è sempre Muzio, sono passati alcuni anni, siamo nella parte terminale del ventennio fascista e questo elemento è un elemento di una Milano e di un'architettura che in qualche modo è meno trionfalistica di quella naturalmente diciamo della littoria più ufficiale in cui questo elemento dell'arco e il mattone sono come elementi di una concretezza, di un'umiltà io direi quasi per alcuni aspetti di cui Milano si dotano, la terra del mattone è davvero qualche cosa che ha un proprio carattere umile e di cui Milano spesso e volentieri si dota. Poi invece un'altra natura direi dell'architettura milanese fortemente caratterizzante una buona parte del Novecento è quella natura più razionale, quella natura ragionevole se volete a cui appartiene di diritto forse come una delle opere più interessanti questa casa in corso a Sempione, Giuseppe Terragni, Pietro Lingeri, la casa Rustici, anche questa è una casa in realtà speculativa, è una casa di appartamenti che non ha un carattere sperimentale come altre architetture di Terragni a Como, qui invece bisogna costruire la città, occupare lotti e svilupparli in parte anche in altezza e però Terragni e Lingeri lo fanno in maniera molto interessante perché riprendono la tipologia della casa a ballatoio che è la tipica casa milanese con la distribuzione in orizzontale con questi elementi che appunto connettono tra i loro le varie parti, lo fanno però ripensando in maniera anche molto moderna questa vecchia tipologia, lo fa appunto alludendo anche a degli elementi di un'architettura razionalista, il nome con cui viene chiamata complessivamente questa stagione moderna dell'architettura, però io direi questo, il razionalismo milanese è un razionalismo che fa parte, questo sì, del DNA della città, cioè in qualche modo è parte di un comportamento anche di un'etica, fare le cose ragionevolmente in qualche modo fa parte anche di un'attitudine, di un atteggiamento milanese che non spreca, o almeno fino a un certo punto lo ha fatto, poi naturalmente ci sono state decadenze, però insomma che non spreca, che non esorbita, anche dimensionalmente Milano è una città mediocre, nel senso migliore del termine, dunque che si colloca appunto Mediolanum, nel mezzo della pianura e della medietà ha fatto sempre un carattere in fondo virtuoso. Questo aspetto aereo che assumono queste passerelle che come vedete sono realizzate peraltro la pavimentazione in vetro cemento, per cui camminandoci sopra si ha la sensazione di stare quasi nel vuoto, quindi qua lo vedete bene nella struttura di ingresso, in una foto d'epoca, ma è ancora così la casa, e dunque questo carattere davvero quasi smaterializzato che si accompagna però invece alla costruzione diciamo di un pezzo di città che oggi questa è la configurazione attuale, un pezzo di città che ovviamente si attesta in maniera molto solida invece lungo appunto tutto l'asse del Sempione, che è uno degli assi privilegiati dello sviluppo milanese. Al di fuori qua si vede la casa che gli sta di fronte, dall'altra parte della strada, che è una altrettanto famosa casa di Piero Bottoni, un grande condominio multipiano, anch'esso razionalista. E poi naturalmente passando diciamo la soglia storica della guerra, ci imbattiamo in quelli che inevitabilmente sono i simboli della Milano della ricostruzione. I simboli della Milano della ricostruzione come è noto sono due, sono due simboli, è come se fosse una specie di Giano Bifronte, una doppia faccia. La faccia di nuovo più razionale, più tagliente, più secca, più netta, e in fondo anche che dice di un'aspirazione di Milano ad essere anche un po' altro a sé, cioè a proiettarsi in Europa, nel mondo, il grattacielo all'americana, questo era il grattacielo Pirelli quando nasce nella seconda metà degli anni 50, e però anche qui bisogna fare attenzione, un grattacielo all'americana che non è succube, non è schiacciato dai suoi modelli appunto d'oltrooceno, ma invece in qualche modo cerca di fornire una versione del tutto italiana del grattacielo, dunque della figura che si slancia verso l'alto. La struttura del grattacielo Pirelli è una struttura che mette perfettamente insieme i suoi due autori, se volete appunto li fonde, sono fusi come opera tutt'uno, diciamo il grattacielo stesso. Da un lato abbiamo Gio Ponti che era, sì, l'architetto, ma è anche il designer, è quello che faceva le ceramiche per la Ricciarginori, cioè è quasi un artista, anzi spesso e volentieri ha questo tratto artistico o da designer, e Pierluigi Nervi che invece è un ingegnere, è l'ingegnere del cemento armato, per cui proprio due nature, due anime diverse, quasi contrapposte, se uno dovesse immaginare di mettere insieme due figure per collaborare, queste sono contrapposte, però appunto si fondono dentro il grattacielo Pirelli, questi grandi triangoli strutturali sono di cemento armato, cavi e questi setti qua in mezzo, sono la struttura del grattacielo Pirelli, che è del tutto innovativa rispetto alla idea di grattacielo americano, che invece si basa su una griglia, normalmente i pilastri, e usano, trattano plasticamente questo oggetto, questo macro oggetto di design, come se fosse una specie, a volte è stato paragonato, un accendino, quegli oggetti, però molto grande, quindi la capacità del design, le virtù del design italiano aggiunte, però anche la capacità di usare il cemento armato, per il quale ci vuole un cantiere in fondo non complessissimo, però in cui c'è un'abilità quasi scultoria, e qui gli italiani hanno sempre ben figurato. Dunque, l'emblema di una Milano che si proietta verso il futuro, in quel momento, siamo appunto alla soglia del 1960, e l'altro è naturalmente la Torre Velasca, è qua vicinissima, gli anni sono più o meno gli stessi, gli architetti BPR, ormai non c'è più Banfi che è morto nei campi di concentramento tedeschi, ma insomma Rogers e Belgioioso e Peressuti, segnano lo skyline milanese con questa torre, non più grattacielo, anche semanticamente è significativa la differenza, quella era evidentemente un grattacielo, questa evidentemente è una torre, per tutti i suoi caratteri, un edificio alto, diciamo, che però non ha che non ha paura di rievocare anche qualche cosa di storico, anche degli aspetti appunto di una storia di Milano, una storia che non gli è evidentemente immediatamente con genere, ma non a caso in questa immagine, molto nota, ma una delle tante, il dialogo ideale con le Guglie del Duomo, con il Gotico del Duomo, e più a distanza con la Torre del Filarete del Castello Sforzesco, per esempio, naturalmente la Torre del Filarete che non è per niente del Filarete, perché è stata fatta alla fine dell'Ottocento, ma insomma anche qui sono quelle stratificazioni, diciamo, un po' della memoria e della storia che poi passano in qualche modo all'interno della, come dentro le viscere della città. Il Grattacielo, la Torre Velasca è soprattutto una presenza nello skyline milanese, non è tanto un edificio importante, se ci pensate e se conoscete Milano, non è un edificio importante per Milano. Se andate in Piazza Velasca, il suo rapporto con la strada è un rapporto anche abbastanza poco ben risolto, e poi a meno che uno ci lavori dentro o ci abiti dentro, sapete che nella parte inferiore il fusto è per uffici e la parte superiore, quella più larga, è per abitazioni, da qui appunto quella distinzione tipologica, ma è anche formale, però insomma se non si ha questo tipo di frequentazione, non è un edificio nel quale si va, non è un edificio che ci in qualche modo incrocia la nostra vita di milanesi, è un edificio da guardare da lontano, è davvero come un richiamo visivo che situa dentro il centro, nessun edificio così alto, così vicino al centro, così vicino al Duomo, se ancora adesso andate in cima al Duomo vi accorgete che tutti gli altri stanno ben più fuori, però il lavoro della Torre Velasca è un lavoro moderno, è un lavoro con questi puntoni di cemento armato che rievocano gli archi rampanti per alcuni aspetti delle cattedrale gotiche, ma naturalmente agiscono strutturalmente in maniera del tutto diversa, e poi curiosamente la Torre Velasca anche nella sua impaginato, diciamo così, delle facciate, fa qualche cosa un po' diverso da quei grattacieli consueti che sono anonimi, che sono tutti uguali, osservate per esempio il fatto che delle finestre mancano a un certo punto, c'è come una specie di errore, che naturalmente non è tale, ma insomma c'è come una sorta di lavoro, quasi stratificazione storica, alcune finestre sono tamponate, come in un edificio medievale in cui succedono cose che non sono tutte ragionevoli appunto, è come un'anima, un palinsesto, qualcosa che man mano si viene facendo. Qui mi piace molto questa immagine in cui si riesce a vederla tutta, è molto difficile in realtà vederla tutta questa Torre, perché non abbiamo lo spazio neanche per arretrare, per vederla. E poi ancora, sempre in quel periodo, ormai siamo al confine negli anni 60, Luigi Cacciadominioni, un edificio in una zona abbastanza periferica della città, Piazza Carbonari, un edificio che nasce e che diventerà a sua volta un emblema di una stagione milanese, molto milanese, la palazzina o comunque l'edificio diciamo di medie dimensioni, rivestito di clinker, rivestito di quelle piastrelle dure e lucide, in questo caso marroni scuri come adesso vedremo, che denotano una modernità, anche qui modesta, una modernità non eccessiva, anche nella sua astrazione, anche nel suo carattere, vedete queste finestre che si aprono così un po' casualmente in apparenza, però non è qualche cosa di mentale, non è un'architettura concettuale quella di Milano, è un'architettura che in fondo anche nel suo agire per schemi astratti però ha sempre una sua ragionevolezza, in questo caso poi la ragione è una ragione ancora una volta speculativa o comunque che tiene conto e fa tesoro delle leggi urbanistiche che consentono diverse altezze a seconda se la faccia è sulla piazza o sulla via retrostante e davvero Caccia Dominioni che è un buon professionista, intelligente, astuto potremmo dire, ridisegna quel profilo un po' strano, un po' sgraziato ancora una volta, letteralmente, cioè è tutto ciò che la legge gli consente di fare, cioè sfrutta tutte le altezze, non importa se non viene a fare una cosa molto armoniosa, in fondo Milano è una città che riesce a assorbire anche questa calcolata, diciamo, bruttezza o comunque un po' una sgraziatezza, non troppo fatta per essere appunto vista nei suoi caratteri di un'estetica formalista. Qui vedete il colore, queste aggiunte, queste specie di bovindo che si vanno a dizionare, c'è l'ascensore, anche un curioso inserto che viene lasciato in evidenza come una tecnica un po' futurista come aspetto e poi questa impaginazione così un po' sparpagliata, un po' casuale, c'è un altro edificio per esempio di Gioponti in piazza Cagliazzo che è molto bello da questo punto di vista con una grande rivestimento sempre in clinker verde, con tutto un impaginato un po' pazzo. Però è una pazzia anche qui, non estrema, senza degli eccessi. Poi ho inserito questo che in qualche modo forse è troppo già colto e in qualche modo anche estraneo alla natura della città, però per dire, qui siamo al quartiere Gallaratese, sullo sfondo ci sono le torri di magistretti, a sua volta un professionista milanese, delle torri che in fondo cercano di fare, anche se in piccolo, ciò che tutta la cultura architettonica della parte centrale del Novecento suggeriva, edifici stagliati, torri contornati dal verde che però alla fine non fanno città, cioè sono la non città che la modernità si immagina, o qualche cosa che non costituisce mai un tessuto, una continuità che non offre delle strade, per esempio, non offre una continuità delle strade. Contro a questo, Carlo Aimonino, che è un architetto romano, e Aldo Rossi, che è un architetto milanese, concepiscono invece un complesso, questo che sta in primo piano, che è fatto con una specie di ventaglio, quattro lunghe stecche, che hanno soprattutto il merito, diciamo, al di là di altri che possono anche essere considerati demeriti, una specie di accumulazione di segni nella parte dei Monino, e invece una grande purezza nella parte di Rossi, però hanno il merito di provare a fare città, cioè provano a fare quell'operazione che in fondo forse bisogna sempre provare a fare, cioè costituire dei nuclei, dei centri. Il centro, nella fattispecie, è costituito da questo teatro all'aperto, che è proprio il fulcro di quelle quattro stecche, e come vedete ci sono addirittura a loro volta un po' futuristici passaggi in quota, come se fosse una specie di città della fantascienza, però in fondo in cui l'idea, forse ingenua, però in fondo anche con una sua pregiovolezza, provano di nuovo a costituire dei nessi, perché poi in fondo il senso della città è quello dello stare insieme, dello stare in relazione, non tanto quello di avere, sì, anche comfort e ottimizzare tutti gli aspetti, però in fondo è anche quello di ritrovarsi come nelle piazze, cioè quello di cui davvero sentiamo la mancanza spesso e volentieri nelle nostre città, e a Milano più che mai, sono proprio le piazze, cioè i luoghi dell'aggregazione. Oggi si va in piazza Gaolenti, quella nuova piazza sotto le torri, a mio avviso non belle, degli architetti straniere, ma non sono non belle perché straniere naturalmente, ma sono dei progetti un po' trasportati con l'elicottero, e c'è un sacco di gente, cioè la piazza è animatissima, dimostrazione del fatto che in fondo c'è proprio desiderio di una possibilità di aggregazione. Qui, come vedete, il gallaratese dei Monino ha dei colori quasi emblematici, questo rosso, questo giallo, erano colori di una grande forza che volerano evocare appunto una socialità anche dei suoi edifici, e accanto a questi, è quasi contrapposto a questi, invece la stecca di Rossi, questa lunghissima stecca, così silenziosa, così candida, come se fosse un teatro, queste quinte sceniche che addirittura vanno oltre anche la ragionevolezza strutturale, ma che in fondo appunto creano una specie di grande cortina che a sua volta riattualizza la casa ballatoio. Dunque il ballatoio ritorna in un contesto diverso, in anni diversi, con ancora un senso, perché in fondo appunto lo si vede in questi disegni rossi, questo elemento che dà continuità è anche l'elemento ancora una volta di una relazione interna all'edificio, qualcosa che connette, che fa fare conoscenza per esempio, come sempre succede nel caso ballatoio. C'era poi una cesura, le grandi colonne, insomma c'era anche una certa retorica, come dire, autocompiacimento in questo lungo percorso che connette e passa nella parte inferiore di tutto la stecca di Rossi. Per arrivare a tempi più recenti siamo al portello, il nuovo portello, un'operazione delle nuove annessioni della città moderna, della città contemporanea, che a mio avviso forse al contrario di altri ha una sua pregevolezza, proprio perché riesce a recuperare alcuni dei caratteri di un'architettura milanese, quella di Caccia Dominioni, quella di Asnanguevender o di altri architetti ancora, di magistretti, perché in fondo appunto prova a lavorare sul tema della torre, qui anche di dimensioni medie ormai per la città di Milano, però lavorando su una stratificazione, su una complessità, su qualche cosa che in fondo anche dal punto di vista linguistico prova a rimettersi in connessione con una sua storia. E dunque una storia esiste, anche una storia moderna, contemporanea, anche una storia recente, e in fondo basta, potremmo dire, basta poco per alludere a questa storia. C'è il mattone, c'è di nuovo queste geometrie un po' astratte, ma insomma anche un po' empiriche, cioè si capisce che non c'è in fondo una grande teoria sotto, c'è più un modo di stare, di relazionarsi alle cose. Quelle erano le torri dell'edilizia libera, queste sono le edilizie convenzionate, ci sono differenze ovviamente anche di livello, di prezzo, ma insomma poi anche di morfologia degli edifici, ma il discorso non cambia tantissimo. In ultimo volevo mostrarvi queste architetture che apparentemente sono più estrane, ha un carattere milanese, e però nello stesso tempo raccontano anche di una città che naturalmente si sta evolvendo, la sede di Dolce Gabbana, ci dice in parte già tutto, insomma su una Milano che è diventata la città della moda, la città che tende a spettacolarizzare, però per esempio in queste architetture ritroviamo in fondo quel senso di una purezza astratta più allaterranei in una certa misura, in cui il gesto è semplice, i materiali sono, come in questo caso, quasi coerenti, cioè tutto coerenti a se stessi, e quasi con un segno grafico, senza troppe esagerazioni, qui lo vediamo nella visione di urna in cui si vede di più la struttura saltar fuori, qualche cosa appunto che in fondo, a mio avviso, si accompagna anche bene nella sua diversità ai suoi vicini, cioè non c'è secondo me bisogno, o anzi forse bisogna rifuggire, a mio avviso lo storicismo, cioè il tentativo di riappaesarsi per semplice contiguità stilistica, è una giusta posizione, a mio avviso, quella di mostrare tutta la propria contemporaneità e nello stesso tempo però trovare anche dei punti d'accordo che non siano per forza quelli più banalmente stilistici. E sempre dello stesso gruppo di giovani architetti, e meno male che ci siano dei giovani architetti ancora che fanno delle belle cose, che si chiama più Arc, questo edificio che sta a contorno di quella piazza citata a Pocanze, in cui questa specie di S, di edificio serpeggiante, fa un'operazione, a mio avviso, interessante, semplice, in fondo è come una specie di ultimo pezzo, ultimo frammento del moderno, con la sua cornice, incorniciatura di cemento armato bianco, molto pulito, le due facciate, i due fronti sono differenti, verso l'esterno e verso l'interno, insomma un edificio di grande pulizia, che però proprio in questa pulizia riesce anche a essere, secondo me, un segno, un segno urbano, di cui abbiamo bisogno di segni moderati, di segni non eccessivi, appena alle sue spalle c'è un altro invece di segno eccessivo, adesso sono completate quelle torri e a mio avviso mostrano, non vi mostro le cose che non mi piacciono, che ritengo negative, perché forse era più interessante oggi mostrare delle cose a cui si può, almeno io posso aderire, piuttosto che non quelle a cui si guarda con un rimprovero. Però appunto, io credo che sia importante ritrovare all'interno della città alcuni punti di una adesione, in cui pur nelle diversità, perché a mio avviso bisogna rifuggire alle stupide, diciamo, uguaglianze, alle stupide ripetizioni dell'identico, non si può dare ripetizione identico, soltanto nella variazione continua, la storia avanza, ma nello stesso tempo deve avere uno sguardo ben confitto dentro a delle radici. Ecco, a me sembra che c'è una estetica milanese, a volte è un'estetica che ha anche il coraggio di non essere compiaciuto di se stesso, anche di sfidare il brutto e di annetterlo, e poi Milano appunto è una città che lavora, come è stato detto all'inizio, molto su altri temi, non è certo la città del turismo, è la città dei commerci, delle necessità, però questo appunto può a sua volta essere ricompreso dentro a un palinsesto linguistico ricco. A me sembra che questi edifici, naturalmente anche molti altri, soltanto una breve scelta, però dicano di una natura milanese che esiste, di una identità milanese esistente e, dall'altra parte, il problema è invece cercare di evitare quelle milanesità, diciamo, oleografiche, quella milanesità semplicemente di facciata o presunte, che spesso e volentieri invece hanno attraversato alcuni interventi più recenti in Milano. Grazie. Sì, grazie Marco. Mi sembra che il percorso ci abbia aiutato appunto a isolare dei tratti, di tratti appunto di un ritratto che stiamo cercando di ricostruire. Interessante anche che molti di questi tratti si ritrovano e attraversano il nostro secolo e arrivino fino agli ultimi edifici appena costruiti, di cui anche tu Luca ti sei in qualche modo occupato e hai cercato di raccontare. Di cui cosa? No, dico questi ultimi edifici su cui hai scritto, mi sembra qualcosa. Sono completamente d'accordo che l'edificio più bello è questo qui, di tutto il progetto. Io non ho molto da dire, sono molto contento di aver ascoltato questa relazione e penso che Milano sia una città che evidentemente non può puntare sul proprio panorama anche perché non ci sono molti punti alti naturali da cui guardarla. Cioè quando noi parliamo di panorami, di visuali, appunto immaginiamo Napoli col suo pino, immaginiamo piazzale Michelangelo a Firenze o Barcellona dal Tibidabo. Milano non ce l'ha, non ha un panorama, non ha neanche un fiume, non ha un lago, non ha un mare. Quindi già nella sua diciamo morfologia elementare questa città non si guarda e sembra che quindi sia come è nata senza tutta questa voglia di guardarsi. Quel libro che io considero uno dei più bei libri mai scritti su una città, io penso sempre, se voi dite, io ho letto tanti libri, ho letto, visto tanti libri su Milano. Ce ne sono due che secondo me si staccano su tutti gli altri. Uno è il De Magnalibus di Bonvesin della Riva, anno 1288. Qui è interessante perché Bonvesin fa alcuni rilievi che potrebbero essere ripetuti oggi. Prima di tutto che Milano è una città meravigliosa, cioè ricca di meraviglie, ma di queste meraviglie i milanesi sono i primi a non accorgersi e quindi su questo siamo presso a poco sullo stesso livello. L'altra cosa interessante è che Milano sicuramente non è, adesso qui ho due grandi esperti, io la leggo più diciamo così sul versante antropologico, però non è una città, non appartiene e mi colpisce come l'altra città che lei ha preso come esempio sia Napoli, che è un'altra città abbastanza tipica, cioè una città insomma che possiamo chiamare italiana così, perché si trova sul territorio italiano, ma Napoli innanzitutto è Napoli, è una città stato, è una città continente, quindi è difficile inquadrarla come città italiana, cioè mi sembra che Napoli, il concetto di Napoli sia qualcosa di più grande della stessa idea di Italia, almeno di quella che facciamo noi, quindi sia difficilmente inquadrabile. Ma anche Milano è difficilmente inquadrabile in un paese che ha sostanzialmente inventato la città, cioè l'Italia è il paese delle città per eccellenza, era pieno di città quando nel resto del mondo le città non c'erano quasi e in Italia è nato un modello della convivenza, che poi ha trovato quelle espressioni così belle come bene comune, che vediamo per esempio rappresentato nell'allegoria del buon governo a Siena. Cioè l'idea, come dire, di luoghi in cui tutti gli aspetti della vita umana siano compresi e possano trovare una loro espressione, quindi il lavoro, gli affetti, la vita familiare, la vita di relazione, il divertimento, quindi il dovere, il piacere. E il modello della città italiana che è stato tanto amato e tanto copiato nel mondo è un modello un po' diverso rispetto a Milano. Generalmente la città italiana appunto sorge su un fiume, su un mare, su un lago, sorge sempre in qualche posto, come dire, in qualche posto che presupponga un guardarsi. Poi è interessante perché naturalmente come Firenze sta sull'Arno e come Roma sta sul Tevere sono due cose completamente diverse, oppure non so come Messina e come Catania stanno sul mare sono due cose opposte, non solo diverse ma opposte. Quindi poi ogni città è interessante perché si inventa, si crea, ogni città è una risposta originale alla domanda della convivenza, a una domanda su, questa domanda cruciale che è come fare a vivere insieme, come fa la diversità degli esseri umani a stare insieme. Ogni città risponde a modo suo. Milano ha un suo modo che è discreto, Milano evita gli sguardi, si guarda poco ma non ha una gran voglia di guardarsi, ma non perché si vergogni di se stessa, ma perché è fatta così. E anche l'architettura milanese, a me è piaciuta molto questa carrellata che abbiamo fatto, perché un po' addirittura anche nei grattacieli, questa discrezione, queste superfici sulle quali lo sguardo non è chiamato a fermarsi, a stare lì, a produrre meraviglia, a stupore. Tutti vanno a Barcellona per vedere le opere di Gaudì. E con le opere di Gaudì, un architetto, diciamo sicuramente un grande architetto, ma che non è tra i miei preferiti, però tutti vanno a vedere le opere di Gaudì perché è di Gaudì e anche di tutto il suo movimento, perché poi non c'era solo lui, c'era anche proprio tutto il gruppo al quale lui apparteneva, però sono opere fatte apposta per attirare gli sguardi, per produrre meraviglia, per produrre paesamento, mentre la bellezza milanese ci scivola sotto gli occhi. Una volta andai con un architetto a vedere alcune case non lontane da casa mia, e qui ce n'era una di Gioponti. Questo mi dice, ma dice, guarda che questa casa qui è bellissima, e ha detto, ma a me sembra assolutamente normale. Allora lui mi ha detto, ma tu quando la datteresti? Lui dico, una data? Lui mi dice, è vent'anni prima. Già questo mi ha messo un pochino sull'avviso, perché dico, ma occhio a Croce dovrebbe essere di quell'epoca lì. Dopodiché mi ha fatto vedere con molta semplicità una quindicina di elementi che il mio occhio non aveva notato, ma anche se fossi stato lì a guardarlo non l'avrei notato più di tanto, mentre casa battiò, quello noti subito tutto, insomma. E quindi è un genio quello milanese particolare in questo senso. A me è colpito molto anche la sua insistenza sui termini estetici, e mi domandavo se, diciamo, quando lei parla di estetica intende, diciamo, l'estetica classica. Sono d'accordo, ovviamente. Però a me è piaciuto anche vedere come queste irregolatilità che lei rileva fin dall'inizio, fin dal palazzo di Muzio. Tra l'altro ci sono altre cose di Muzio che a me piacciono molto. Uno è il Palazzo della Triennale e uno è quello che secondo me è un piccolo capolavoro, che è quella specie di raccordo, soprattutto anche questo in mattone, a vista, tra l'Istituto dei Ciechi e il Palazzo della Provincia, dove ci sono queste superfici un po' mosse. Così a me sembra bellissimo. Cioè io credo che avesse abbastanza del genio Muzio. Ogni tanto viene fuori. E a me l'acca brutta è sempre piaciuta. Lì anche si tratta, anche queste irregolarità, per esempio nel Palazzo di Piazza Carbonari, è anche vero che, diciamo, uno degli emblemi della ricerca del bello, dell'idea del bello che noi abbiamo, che è il rinascimento, il rinascimento cominciò, esso stesso, introducendo irregolarità. Penso forse alla più bella facciata di edificio civile che io abbia mai visto, che è Palazzo Ruccellà in via della Vigna Nuova a Firenze, dove, come molti sanno, i blocchi che rivestono non sono posti regolarmente, secondo un criterio, diciamo, razionalista, diremmo noi oggi. Ma c'è l'introduzione di quella apparente casualità che invece fa estetica, non la toglie. E a me piaceva anche vedere come questo, per esempio, un elemento, così evidentemente noi non abbiamo avuto Leon Battista Alberti, però questo elemento dell'irregolarità che troviamo nel Palazzo di Cacciadominioni, che ritroviamo in quelli di Cinozuki, tanti anni dopo, insomma, mi sembra qualcosa che risponda un po' a una natura come quella della nostra città che produce bello, ma non è mai un bello che si esibisce. Tant'è vero che noi scopriamo cose strane. Non so, a Milano, in via Matteo Bandello, all'interno di alcuni edifici di via Matteo Bandello, esistono orti che sono, come noi li vediamo, dal Quattrocento. A Milano ci si può affacciare a un cancello e trovarsi in un'altra epoca, perché poi paradossalmente Milano è una città che si sa neovare, ma che si conserva, come dire, che crea come delle isole di tempo dentro di sé, che secondo me è anche il fascino di questa città. Vuol dire un'ultima cosa, vuol fare un'ultima osservazione, che è quella su... Io ho riflettuto molto su Piazza Gaia Olenti, perché è una piazza dove si va molto, e mi chiedo anche, perché prima lei parlava, e mi piacerebbe anche, non so, sentire anche quello che pensa, lei prima parlava, professore, della necessità delle piazze, cioè di luoghi di aggregazione. Però io ho notato una cosa, delle diverse piazze nuove che sono state fatte, sostanzialmente funziona bene solo Piazza Gaia Olenti. Le altre la gente non ci va. E allora io mi ponevo una questione, un po' tra architettura e urbanistica, e forse anche qualcos'altro. Che cos'è che produce l'attrattiva in un nuovo progetto che viene realizzato? Sono semplicemente gli edifici? Cioè dove, visto che appunto si parlava di estetica, quindi di bello, di calos, quindi di richiamo, dove avviene il richiamo? Cioè è un edificio molto alto, per esempio, un edificio che a me piace moltissimo è il Chrysler Building, però le volte che sono andato a New York non mi è mai venuto in mente di andare lì a guardarmelo, anche perché quando vai lì a guardartelo non vedi niente. Cioè la cosa migliore sarebbe prendere un elicottero e volarci intorno con l'elicottero, cosa che non ho mai fatto. Ecco, quello che mi chiedo è invece che cosa produce quella naturale, semplice, attrattiva che fa sì che uno vada in un posto piuttosto che in un altro. Perché questo mi dà l'idea che la forza di un progetto tante volte stia a livello del suolo, più, come dire, a livello dell'eventuale bellezza degli edifici. E questa qui è una cosa anche da tenere conto parlando di Milano. Io spero che Milano non si riempia di grattacieli, perché se si riempie di grattacieli non diventa come New York o Chicago, ma diventa come Pechino. Nel senso che, immagino che sarà un grande casino tra vecchie case, grattacieli, tutto un po' come quando si va a Pechino. e anche perché Milano è una città con pochi simboli che devono rimanere pochi. Io personalmente approvo l'aguglia di Piazza Gaia Eulenti, ispirata più che alla Madonnina, secondo me, a certi a certi minaretti. Cesar Pelli è un esperto di architettura islamica. Voi, se guardate il minaretto della mosca di Ibn Touloun, per esempio, meravigliosa, Mosca di Touloun del Cairo, il movimento è un po' quello lì. Ecco, però, diciamo, io la provo perché è uno. E se cominciassero essercene tre o quattro, io non riconoscerei più la mia città. Perché la cosa più brutta quando si va in una città è non riuscire più a orientarsi. lì vuol dire che non la stai più abitando, che non è più un posto abitabile. Provate voi ad andare a Mosca adesso, no? E continuano a sorgere complessi con palazzi alti 300 metri di qua di là e voi non capite più bene dove è il nord, dove è il sud, no? Da che parte sta, no? Allora il Cremlino è di là, no? È di là, eccetera. No? Anche perché il fiume poi gira e gira a volta dentro la città. Ecco, non so, basta, a me sembra, insomma, che quindi anche questo passare inosservato, insomma, appartenga un pochino a un po' un bello nostro, il bello della nostra città che, assomma, leggete, Bonvesini della Riva, leggete, dice, sì, le altre città hanno grandi monumenti, grandi opere, grandi chiese, eccetera, ma noi siamo pieni, abbiamo l'acqua migliore, la frutta migliore, la gente vive più a lungo, abbiamo tot maniscalchi, tot case di accoglienza, tot questo, tot quello, insomma, legge le meraviglie di Milano in un altro modo. L'altro libro, finisco perché mi ero dimenticato, i libri sono due, resta Ritratti di fabbriche di Gabriele Basilico, dove uno dei più bei ritratti di Milano viene fatto attraverso i suoi edifici industriali sparsi nella periferia e non c'è nulla che mi parli di Milano come, a parte l'affetto e quanto mi manca Gabriele Basilico, personalmente, quanto ci manca, ma nulla dà l'idea di che cos'è Milano, almeno a me, come quello strano libro lì. Un giorno farò un parco tematico su quei luoghi lì. Grazie. Marco, se vuoi reagire subito. Io ti metto lì altre due questioni che mi erano venute dal primo tuo intervento. Cioè, la prima è quella mi sembra dell'idea del carattere degli edifici che mi sembra un po' un'idea chiave e che forse anche per parte mia può rispondere un po' alla domanda tua Luca su che cosa rende attrattivo un luogo. L'idea che un edificio abbia un proprio carattere e che questo carattere sia riconoscibile secondo me è discriminante rispetto a un edificio anonimo che invece non ha la capacità di raccontarsi e quindi di attrarre qualcuno in un rapporto. è un'idea peraltro che un grande architetto milanese come Rossi che tu hai fatto vedere prima diceva bene nella sua definizione di città come un grande teatro in cui gli edifici sono dei personaggi e quindi come nel teatro hanno il proprio carattere. Quindi questa è la prima questione. Poi l'altra era su quell'idea di razionalità che tu hai raccontato hai fatto vedere in alcuni esempi che però proprio in quegli anni viene in alcuni casi criticata da chi invece in Europa professava diciamo i dettami del razionalismo il razionalismo europeo che aveva delle regole che aveva degli esponenti importanti e Milano quello che succedeva a Milano in qualche modo usciva da questi schemi e quindi pur ispirandosi a un'idea razionale dell'architettura quindi evidentemente c'era un qualcosa di diverso e qualcosa in più forse. Allora mi sono molto piaciute le cose che ha detto Luca Doninelli con cui sono ovviamente d'accordo e sì è evidente che ogni città rilavora delle condizioni quella sommatoria di edifici di cose pubbliche di cose private di spazi comuni eccetera in maniera diversa poi la cosa interessante che a me ha sempre incuriosito è il fatto che comunque almeno alle loro origini tutte le città hanno scelto forse non tutti in assoluto alcune stanno anche in alcuni posti un po' casuali perché ce ne sono tante ma quelle principali in fondo hanno scelto un posto con un senso no è interessante vedere come insomma c'è chiaramente una seduzione che è dovuta alla bellezza ma è dovuta anche all'igiene al luogo alle condizioni rispetto ai venti rispetto a tutta un'altra serie di cose che naturalmente le antichità erano più importanti di quanto non siano oggi non so se andate a Porto per dire cioè Lisbona a Porto quelle città sull'Atlantico in cui quella condizione in relazione col fiume col mare o appunto con l'oceano sono straordinarie nel loro carattere cioè si capisce davvero perché a un certo punto qualcuno dice fermiamoci qui no cioè questo è un posto che va bene ma perché qualcuno si è fermato a Milano questo è interessante perché se c'è una città insomma in qualche modo è un segno inequivocabile insomma qualcosa io credo io credo che non vada sottovalutata la bellezza di cui parlano proprio anche le testimonianze antiche la bellezza estrema delle condizioni anche geografiche di Milano prima che ci fosse Milano ovviamente cioè in realtà era un territorio come adesso diceva Luca Doninelli molto produttivo dal punto di vista della sua terra l'acqua è buona la posizione naturalmente è una posizione adatta per molte circostanze dunque io credo che ci fosse anche lì qualche bellezza anzi c'era sicuramente qualche bellezza però curiosamente già diciamo ancora prima paradossalmente che ci fosse una città erano delle bellezze nascoste cioè non erano delle bellezze più evidenti non era appunto nel fiume nel mare nel monte né qualcosa di molto vistoso era qualcosa che bisognava in qualche modo osservare cercare insomma per sapere che l'acqua è buona bisogna assaggiarla no 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 non basta la vista che in fondo è il senso più immediato bisogna entrare in relazione e dunque credo che questo costituisca già fondamento di una città come Milano sono d'accordissimo con i ritratti come si naturalmente ma anche con i ritratti di fabbrica di basilico e qui c'è tutta una tradizione di cioè Milano non ha avuto Piranesi no questo il grande incisore che ritrae la sua città nei suoi caratteri anche realistici perché poi Piranesi al di là dei voli pindarici delle carceri però è anche molto realista quando disegna le rovine così come si presentavano ai suoi occhi e Milano non ha avuto Piranesi però ha avuto basilico a modo suo cioè potremmo dire che sta su quella linea di una capacità di guardare la città reale no ed è una città perifere che è una città di pezzi diciamo che non guarderemmo in prima battuta ma che invece costituiscono città ma in fondo andando all'indietro c'è stato Sironi per esempio che in fondo ha avuto esattamente lo sguardo sugli stessi oggetti quelle periferie così laconiche melanconiche che però hanno un genio no l'ha detto bene Donnelli prima naturalmente hanno un genio di quel luogo come instillarlo no questa è l'operazione più difficile di tutti per un architetto come instillare il genio del luogo se il luogo faticosamente ormai si rivela come ai nostri occhi stratificato cancellato fatto e rifatto come legarsi al suolo come diceva Aurora Donnelli se il suolo per esempio come nelle piazze milanesi spesso e volentieri le ultime sono tutte piazze per arrivate ormai la piazza è diventato qualche cosa che si innalza che inventa il suo terreno e crea davvero un artificio come una specie di piattaforma elevata sta per essere inaugurata quella del portello che è la più grande piazza di Milano più grande di quella del Duomo difficilissimo sarà abitare quella piazza non so come si farà forse non l'abiterà nessuno verrebbe da dire ovviamente sono d'accordo anche sul fatto che non sono tanto le architetture quelle che determinano la fortuna della piazza quanto piuttosto delle condizioni quali condizioni beh sicuramente una crucialità diciamo nell'epoca contemporanea più legata alle questioni commerciali più legata però in quel caso non credo soltanto diciamo all'offerta commerciale in quanto tale ma anche proprio a una posizione di snodo dentro la città e in fondo Piazza Gaiavolenti inventa perché non c'era naturalmente cioè non c'è mai stata una piazza lì o neanche in luoghi immediatamente limitrofi però è come se reinventasse un po' tutto un luogo nel senso che da lì e poi forse speriamo con il parco che ne conseguirà è come se i milanesi provassero il piacere di trovare qualche cosa che in fondo non si attendevano e forse dunque anche una novità da questo punto di vista potrebbe costituire essere un elemento interessante rispetto a una certa diciamo attitudine milanese alla ricerca di qualche cosa di nuovo sono d'accordissimo anche sulle origini in qualche modo della terminazione direi appunto da Minaretto qualcosa di arabo che possiede quell'architettura forse con l'unica piccola chiosa che appunto pelli quel progetto lì che ha fatto in altri luoghi e in altri momenti della sua lunga peraltro carriera è un progetto appunto in cui probabilmente visto dall'America l'Italia sta come dire nel bacino mediterraneo medio oriente cioè è qualche cosa che sta fra cioè sta dentro a un grande luogo comune qual è il mediterraneo e in fondo va bene tutto forse ai suoi occhi insomma forse non gli attribuirei come dire troppa volontà di inserire quell'elemento ma insomma può essere un elemento che va bene anche per l'Italia l'ultima cosa su cui volevo dire poi arrivo anche alla cosa che chiedeva Lorenzo è la riconoscibilità agli edifici allora secondo me uno degli aspetti interessanti che a me ha sempre colpito di Milano è la direi la cosalità degli edifici cioè proprio perché assente una caratterizzazione scenografica proprio perché i dislivelli non ci sono proprio perché le prospettive non ci sono Milano è una parata di cose cose edifici scatole di diverse forme colori materiali grandezze però insomma sono come tante cose sono tanti oggetti allora questa oggettualità ci costringe a confrontarci come dire quasi alla pari con quelle cose lì cioè sono confrontabili davvero sono sullo stesso piano è come una specie di grande tavola apparecchiata su cui stanno gli oggetti e quindi no li vedo e entro in relazione con loro questo è un aspetto sicuramente interessante su cui forse dovrebbe ragionare proprio nel momento in cui si prova ad essere architetti naturalmente a pensare un'architettura milanese con questo carattere di concretezza di qualcosa e allora sulla questione che poneva Lorenzo Margiotta il confronto con il razionalismo europeo allora dice una cosa molto bella e molto giusta secondo me Gio Ponti a questo proposito quando teorizza e poi realizza anche quella che lui chiama le case all'italiana le case all'italiana non so se erano una di quelle che aveva visto Luca Minelli può essere che lo fossero le case all'italiana che sono delle case che devono avere tutti i confort della casa moderna siamo negli anni 30 e però nello stesso tempo anche qualche cosa che ci assomiglia cioè che dice di un'italianità e che in sostanza era l'esistenza della centralità del soggiorno che si connette anche otticamente alle altre stanze la presenza della cucina perché naturalmente diciamo le abitudini italiane non possono rinunciare alla cucina alcuni elementi diciamo di agio e Ponti quando descrive la casa italiana dice esiste la casa adatta la casa astratta la casa astratta che è quella appunto del razionalismo tedesco tutto di testa tutto mentale concettuale molto anche un po' un po' misera diciamo dal punto di vista della sua offerta come dire una casa una casa filosofica quasi quasi in cui bisogna essere dei buoni filosofi per farsene andar bene e dunque la casa astratta è la casa adatta la casa adatta è quella italiana in cui già in questo aggettivo c'è tutto in qualche modo anche un saper vivere una specie di anticipazione alla dolce vita cioè potersi adattare questa casa che si adatta alle circostanze dei suoi abitanti in qualche modo dà già conto di un agio di cui sicuramente noi siamo compartecipi allora io credo che sia questa la differenza del razionalismo milanese è un razionalismo intrinseco non è strinseco è qualcosa che appartiene dicevo prima a un'etica prima ancora che a un'estetica è un risparmio ma non che adesso io voglio fare dei milanesi dei risparmiatori per eccellenza perché forse non lo sono per antonomasia non passano per i risparmiatori in quelle in quelle barzellette diciamo sulle città o sui caratteri però comunque è una città che bada al sodo ecco forse potremmo dire questo che bada al sodo quindi qualche cosa che risponde che corrisponde in fondo è anche la realità dei caratteri contadini dei caratteri che arrivano quei caratteri lombardi di cui naturalmente anche Milano poi ha preso dentro le cose perché in fondo anche il razionalismo italiano aveva queste origini quell'architettura rurale che faceva meno della decorazione e di molte altre cose i materiali sontuosi semplicemente perché non c'erano i soldi per farlo ma lo stesso è come se si ottenesse già un risultato anche estetico essenziale puro e bello alla fine bello nella sua anche povertà perché no ovviamente Milano non è una città povera perché comunque ha dei tratti anche di ostensione una popa ricchezza però anche qua senza gli eccessi di altri luoghi senza i compiacimenti senza i fasti ecco direi la ricchezza è un po' contadina in fondo è una ricchezza vuol dire la ricchezza la grande ricchezza borghese che si trova in Londra in Parigi a Milano la trovi io penso per esempio a una via vicino a Academia che è sicuramente una via diciamo ricca come via Mozart però come dire è un altro non è il ricco borghese industriale eccetera ma ti dà più l'idea del ricco proprietario di terre cioè anche se magari poi ha messo su un'industria però diciamo non c'è ancora l'idea di una classe che si dota di una di un'estetica architettonica importante ma sono più è qualcosa di più individuale non so come se no? o sbaglio non so giustissimo giustissimo io chiudo dicendo che cioè con un invito a osservare Milano magari già lo fate però osservare Milano con curiosità nel senso che appunto quella specie di caccia no? cioè un richiamarsi delle cose che forse un po' sfuggono alcune si si rintanano nei cortili lo diceva già Savigno insomma c'è tutta una letteratura sul cortile sulla sua ricchezza che si cela allo sguardo esterno ma così come nei cortili in tanti altri luoghi nella via che svolta dietro l'angolo ci sono in fondo appunto piccoli capolavori nascosti e io credo che appunto in qualche modo facciamo soltanto una cortesia a noi stessi ma anche all'idea diciamo di noi come comunità nell'avere coscienza di queste cose perché poi appunto credo che sono le cose e non c'entra naturalmente la provenienza l'essere o meno di Milano a questo punto non vale assolutamente nulla ma appunto più anzi molto più che quello molto più che la carta d'identità dice invece la consapevolezza di una qualche appunto come segreto segreto di Milano come avete intitolato questo incontro grazie grazie questo tuo invito è anche ripreso da una frase che conosci credo di Le Corbusier quando dice ti prego di tenere aperti gli occhi quando dice hai gli occhi aperti che cosa guardi quando esci per una passeggiata questo è un invito che fa questo grande architetto che avremo in qualche modo occasione di di sperimentare nelle visite che ci aspettano non so se ci sono delle domande degli interventi buonasera grazie un'osservazione non so se in disaccordo o in accordo non ho ancora capito ma quando si parlava del panorama di Milano io sono in disaccordo che sia un panorama brutto anzi diciamo salendo su uno di quei grattacieli belli o brutti che siano sia l'ultimo di Unicredit o il Pirellone magari nelle giornate terse credo che il panorama il panorama che circonda Milano in lontananza sia uno dei più belli di tutte le città europee se ci penso non mi vengono in mente altre città dove si riesce a vedere così bello così lontano e credo che questo tiri fuori proprio la bellezza di Milano nel senso della sua medietà che dicevamo prima cioè nell'essere nel mezzo se fosse su un fiume o su un mare non sarebbe Milano cioè una banalità ma è così e credo che salendo su queste torri ci sia un altro segno della bellezza che è stata accennata che è quella dei giardini nascosti che si vedono solo dall'alto e anche questo credo sia una bellezza in termini di medietà e non so se siate d'accordo certo credo sia contraddittorio questa cosa che per vedere le cose belle bisogna salire in alto in una città che non ha montagne o non ha balconi naturali mi chiedo quando non c'erano grattacieli come si potesse vedere tutta questa bellezza allora forse un bene che ne spuntino ogni tanto qua e là grazie nessuno non credo che abbiamo detto che è brutto il panorama era solo il fatto che appunto questa bassura è tale per cui chi è edificato Milano non ha mai pensato molto a come saremmo se fossimo visti dall'alto mentre ci sono città che per forza le devi vedere dall'alto a volte per raggiungerle devi arrivare dall'alto ma Milano ha un meraviglioso panorama io quando salgo quando ci hai portato tu sul pirellone oppure sono salito recentemente sulla Torre Unicredito veramente vale la pena perché oltretutto non solo si vedono i giardini nascosti ma si capisce anche un sacco di cose di questa città che secondo me sorprendono sempre io no no anche io sono d'accordo che è bellissimo è che come dire è come se non pensasse di averlo la città ecco io volevo sapere si parla appunto di Milano dei punti di vista punti di vista dall'alto dell'importanza dell'attacco a terra dell'edificio perché forse viviamo a quel livello e non abbiamo la fortuna tutti i giorni di godere di un panorama dall'alto cosa ne pensate della torre Galfa ma non perché vorrei che spingervi a parlare di Macao o di questi movimenti recenti movimenti ma proprio dal punto di vista della possibilità offerta momentanea illegale quanto volete però offerta di avere un grattacielo pubblico in una maniera o nell'altra e quindi appunto magari questa smania di avere delle piazze a un livello più alto perché forse ci manca questa cosa forse è un po' soffocante come città in certi punti soprattutto magari qual è il nuovo mito della città c'è stato il mito della velocità il mito della verticalità però forse la verticalità della città è un'altra cosa rispetto alla torre Unicredit o comunque ai nuovi recenti progetti Porta Nuova eccetera a me interessava chiedere una cosa tra lo storico però anche un po' l'antropologico sembra vedendo le immagini che abbiamo percorso stasera anche dai discorsi emersi che la stagione che va dal 10 al 50 al 60 abbia come una sua nella molteplice diversità però una sua omogeneità mi chiedevo ma così tanti architetti mi pare che siano una trentina hanno fatto tantissime cose a Milano mi pare che Gio Ponti abbia fatto 60 case 55 case non sappiamo neanche dove sono sono tante per un architetto a un certo punto la città è come se fosse cresciuta velocissimamente un po' anche il tema che diceva lui prima adesso e forse hanno fatto i geometri cioè la progettazione non poteva stare più dietro alla richiesta poi c'era forse anche il fenomeno di mercato di mattone che già arrivavano però mi interessava di più questo fatto che anche in altre città ci sono state così tante persone e tra l'altro così che si richiamavano l'un l'altro pur in grandi differenze io ho visto in una libreria un libro di Gio Ponti che si chiama Milano è qui poi il titolo è ripercorso in quattro lingue e fa un rimando tra tantissime a cui lui guardava e anche di sue contemporanee senza troppe come dire invidie ma al di là di volevo come dire è stata segnata da delle relazioni e sembra quasi che questi architetti abbiano vissuto un po' in questa stagione questa caratteristica del segreto di Milano cioè di essere moderna ma non come fuga in avanti singolare perché ognuna cosa è diversa e però non egocentrica non del genio solitario e che poi sconfina in una differenza che fa caos e voglio chiedere questo in raffronto all'altra città se sia un fenomeno unico che indica questa anche nostra diciamo caratteristica o meno no parto da quest'ultima cosa secondo me una questione interessante che forse non è stata detta è anche una questione dimensionale cioè Milano tutto sommato è una città che io dico spesso piccola poi qualcuno mi dice ma no non è piccola però in fondo io ritengo positivamente non come una negazione diciamo della sua grandeur ma piccola nel senso che è una città in fondo ancora raccolta ancora abbastanza naturalmente dalla sua parte centrale a misura d'uomo sì poi naturalmente si è allargata però è una città di cui ancora possiamo vedere dentro la quale possiamo vedere dei rapporti e relazioni si riesce ancora a attraversare in sue parti diciamo determinate non è Londra non è neanche Roma che hanno evidentemente dimensioni diverse e anche dal punto di vista se vogliamo dell'umanità che l'ha attraversata nel novecento per esempio in fondo ancora era un ambiente quello per esempio che costruiva che ha costruito la città è un ambiente piccolo cioè c'erano pochi architetti che lavoravano insistentemente sulla città c'è una curiosa come piccola comunità di uomini che si danno a questo compito e questo naturalmente oggi non c'è più per ragioni molteplici naturalmente sono figure diverse quelle che operano sulla città spesso non sono gli architetti ci sono molti più architetti e poi appunto e c'è una mescolanza è come se davvero se fosse aperto dopo gli anni 60-70 una porta verso anche una ma giustamente anche questo verso altre influenze culture e provenienze in quel momento Milano viene come costruita dentro a una sua logica da alcuni personaggi che hanno un forte radicamento nella città che la capiscono che la comprendono e sì ci sono altre città in cui questa cosa accade non so in mente Bruxelles in mente forse non Parigi che invece ha dei caratteri a sua volta più dimensionalmente e anche culturalmente di crocevia cioè ci sono le città europee che hanno avuto questo tipo di destino ma in fondo è abbastanza caratteristico di Milano anche questa sorta di omogeneità nel suo sviluppo e anche in fondo questa ristrettezza dei suoi dei suoi costruttori la questione della Torre Galfa la Torre Galfa che io devo dire non avevo non ci avevo mai messo piede come forse più o meno tutti voi insomma prima che ci fosse quell'occupazione di pochi giorni che mi aveva molto incuriosito andare ai piani superiori di quel grattacielo che avevo sempre visto da fuori come un grattacielo in fondo quasi elementare quasi quasi povero ma parzialmente un grattacielo povero nella sua struttura nei suoi materiali proprio una elementarità un programma minimo insomma del grattacielo anche dimensionalmente ogni piano in realtà è davvero piuttosto ristretto e lì si istituisce in effetti quella cosa che diceva l'intervento precedente quella straordinarietà dello sguardo all'alto concordo con questo soprattutto lo sguardo dall'alto su Milano è uno sguardo straordinario perché è molto inconsueto cioè non ci capita di sovente di poter vedere come quella cosa lì da un altro punto di vista è come se fosse un dono improvviso di cui godiamo però il problema è nonostante abbia anche condiviso lo spirito che ha animato ha mosso quel momento però poi è evidente che non è che è tanto il problema della Torre Galfa e della piazza su più livelli cioè non è sintetizzabile in questo modo nel senso che quel edificio lì in quel momento può aver avuto diciamo questo destino pur transitorio poi però è difficile pensare delle condizioni in cui Milano ma qualunque altra città in realtà o forse Milano più che altra città destina se stesso un suo lotto un suo edificio o cose di questo genere a delle funzioni che non siano per l'appunto fortemente funzionalizzate cioè non so se ci sono esempi di questo genere di come piazze pubbliche su più livelli offerte alla città anzi io direi che la tipologia del grattacielo meno di altre è una tipologia che si sottomette proprio a questo genere di uso perché poi voglio dire ci sono centri civici luoghi di incontro di socializzazione molto altro in tantissime città molto più di quanto non ci sono a Milano onestamente però non sono mai dentro al grattacielo cioè come se il grattacielo fosse segnato di per sé appunto dalla natura di intensa di intenso sfruttamento di uno stesso di una stessa area uno stesso lotto e dunque anche a ovviamente una destinazione commerciale dunque non so fino a che punto quello potrebbe costituire una specie di ideale no non so come dire una specie di realtà utopica di utopia realizzata in cui così si vive la città dentro a una specie gioiosa festa di Macao che però appunto poi non cioè non riesce secondo me a costruire se stesso come un panorama credibile cioè un panorama voglio dire di sociale credibile e infatti poi si può discutere finché si vuole sul fatto che una volta che l'occupazione di quello spazio è finita ovviamente è ancora lì a Torre Galfa a far niente e quindi avrebbe potuto secondo me anche una transitorialità meno temporanea anche destinarsi rivolgersi a un uso sociale però poi sono le leggi stesse della città che impediscono questo dunque secondo me non è tanto un problema di architetture qui ma davvero è un problema di lettura politica del sistema lei dice che per esempio dare a Torre Galfa un destino berlinese è impossibile il destino berlinese laddove ci sono quelle cose berlinesi ma sono dentro ma ce ne sono tantissime anche a Milano gli ex edifici industriali corpi diciamo dismessi però mi sembra che non è un caso che la Torre Galfa venne lasciata vuota perché evidentemente è più appetibile la sua prossima distruzione che magari verrà fra dieci anni o fra venti chi lo sa non è importante questo ma come è noto è più conveniente lasciare qualcosa di vuoto piuttosto che rischiare di perdere l'area e qui secondo me siamo dentro le leggi di mercato ma non lo dico perché voglia cavalcare ma perché mi sembra che siano realisticamente da tenere in conto scusi volevo dire un'ultima cosa su Milano dall'alto che sto continuando a pensarci andate veramente a vederla salite in cima a qualche torre e guardate perché c'è l'ultima volta che sono salito io sulla torre dell'Unicredit non tanti giorni fa io ho visto anche una cosa e sto pensando proprio a lei che insegna al Politecnico è anche una città in cui si vede chiaramente che per 40 anni non è successo niente e io mi domandavo tutti i laureati che per 40 anni sono usciti dalla facoltà di architettura cosa sono andati a fare visto che non è stato fatto niente per 40 anni grazie io mi chiedo cosa facevano teoria dell'architettura eh facciamo teoria dell'architettura vi ringrazio vi ricordo prima di salutarci che Viraghi ha recentemente pubblicato una guida all'architettura di Milano questo è il suo titolo per Eupli e quindi dove si possono trovare sicuramente quegli esempi di cui ha parlato e tanti altri e che può essere uno strumento diciamo da portarsi dietro anche nelle nostre ma è in vendita è in vendita alla Eupli qui dove è e niente vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento a sabato perché ci sarà grazie